Non me vogliono dare il TFR. Ho fatto il ministro e non me lo vogliono dare. Come che sono? Calenda. Carlo. Pronto. Ha buttato giù. Chi era? Mamma. Lei capisce che se non mi riconosce mamma, figura se me riconosce quello dell'Inps. E infatti non me vogliono dare il TFR. Questo sarà il primo contenuto di Siamo Europei. Dare il TFR, ora che è stato ministro, non parlamentare. Questo sì che è un inizio di sinistra. E' una settimana che non mi piace. Cioè piove, non mi danno il TFR. E Zingaretti mi ha rubato l'idea del listone. Avergne ci ho messo per inventare Siamo Europei. E tu me ne freghi. Se fa l'istone è tutto suo colpidito.